Il matrimonio e la famiglia oggi sono in crisi, soprattutto in nome di una libertà che ha portato devastazione spirituale e materiale a innumerevoli esseri umani. Papa Francesco è tornato a parlare della famiglia, incontrando in Vaticano i partecipanti al colloquio internazionale sulla complementarietà tra uomo e donna, promosso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Nel corso dell'udienza, il Pontefice ha ribadito che la famiglia rimane al fondamento della convivenza e la garanzia contro lo sfaldamento sociale e che i bambini hanno il diritto di crescere con un papà e una mamma, capaci di creare un ambiente idoneo al loro sviluppo e alla loro maturazione affettiva. In una sempre crescente cultura del provvisorio, Papa Vergoglio ha esaltato la forza delle scelte definitive, quelle che richiedono impegno e costanza, ma che nella ricchezza e nell'armonia della complementarietà tra uomo e donna soddisfano i desideri più profondi del cuore umano. Non si può parlare oggi di famiglia conservatrice o famiglia progressista. La famiglia è famiglia, ma non lasciarvi qualificare di questo o di altri concetti, ma di natura ideologica. La famiglia è in sé, ha una forza in sé. Possa questo colloquio essere fonte di ispirazione per tutti coloro che cercano di sostenere e rafforzare l'unione dell'uomo e della donna nel matrimonio che è un bene unico, naturale, fondamentale e verlo per le persone, le famiglie, le comunità e le società.